Dopo il battaggio mediatico e gli appelli dei genitori del piccolo Federico, la macchina della solidarietà si è messa in moto. Unica, generosa, trasversale, senza sé e senza ma. Chi può fa del suo e ci mette cuore e soldi per sostenere la famiglia Mezzina in questo viaggio della speranza per assicurare il piano terapeutico di infusioni staminali mesenchiali al proprio figlio, così costose, 30.000 euro a ciclo, che migliorano però il suo stato psicofisico e lo aiutano a fronteggiare la sua terribile malattia. Ognuno col suo, dicevamo, e così attessere la tela della solidarietà sono attività più classiche, come la cena di beneficenza o la maratona, ma si fa anche di necessità virtù. E quindi anche una palestra di acqua fitness si inventa qualcosa per poter contribuire. Noi siamo molto vicini a Federico e la sua famiglia perché ci conosciamo da tempo e quindi appena abbiamo saputo che c'era questa esigenza abbiamo pensato di unirci a loro organizzando una maratona di acqua fitness sabato 24 ottobre a partire dalle 12, da mezzogiorno. Ci mettiamo un po' del nostro facendo fare attività fisica e sport che comunque è un beneficio per tutti quelli che verranno e allo stesso tempo riusciamo anche ad aggiungere questo valore in più che è quello della donazione per Federico. Possono partecipare tutti e c'è anche una quota minima, dal di lì in poi poi chi vuole può dare quello che crede. Sì, pensavamo una quota di 10 euro al minimo e poi se qualcuno vuol dare di più benvenga e possono partecipare veramente tutti, donne, uomini, ragazzi, bambini, chiunque, poi ci adatteremo noi alla clientela. Come si fa a partecipare a questa maratona fitness? Ci potete contattare attraverso la nostra pagina Facebook, trovate Acqua Dream Sara e Giorgia oppure chiamate i nostri numeri di telefono 0721 17 00 753 o il cellulare 393 35 98 251. Armatevi quindi di cuffie e costume e tutti in acqua per Federico!